Anche da Bari si stanno muovendo uomini e mezzi dei vigili del fuoco per raggiungere Manduria per allestire il campo per gli immigrati provenienti da Lampedusa. Facciamo un punto. Sì, anche il comando di Bari è stato interessato appunto da questa cosiddetta emergenza e appunto per allestire questo campo base. Partiranno da Bari 50, anzi stanno già partendo 150 persone con le dotazioni, i mezzi anche speciali per poter allestire un campo base. Tra i mezzi cosa c'è di particolare che si muove qui dal comando provinciale di Bari? Ci hanno chiesto dei mezzi di movimento terra, quindi evidentemente ci sono delle problematiche da risolvere per quanto riguarda il sito da sistemare e poi ci sono gruppi elettrogeni per fornire energia elettrica, autobotti per fornire acqua e altri mezzi per la logistica. I vostri uomini naturalmente insieme ad altri del comando provinciale di Taranto sicuramente ma anche da altre zone della Puglia e da tutta Italia avranno il compito di allestire un campo base? Sì, ovviamente il coordinamento in questi casi è della direzione regionale dei Vigili del Fuoco in questo caso appunto della Puglia però sono convinto che ci sono, diciamo, verranno per contribuire a questo allestimento anche risorse da altri comandi d'Italia e quindi con una direzione, dalla direzione generale. I Vigili del Fuoco sono sempre in prima linea, sono i primi a muoversi, anche in questa occasione lo stanno dimostrando, raddoppiati anche i loro turni? Sì, dalle 8 di stamattina abbiamo raddoppiato i turni proprio per consentire una disponibilità di uomini per fronteggiare questa emergenza a cui appunto faremo fronte. Come sempre, per fortuna non è un'emergenza tipo quella terremoto o cosa del genere però anche per questo siamo pronti a fornire il nostro contributo. Grazie.